Musica Ma avviciniamo i microfoni, no? Non mi fai petto Ah, non mi fai petto Ti togli le cose dal naso Allora, prima diceva Non mi fai petto, adesso Adesso mi pulisce il naso Così, fa niente Eh sì 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 Perché avessi già visto il video di prima Sono di nuovo qua Sono ancora loro Ditelo voi che non tovo la pagina Il gruppo Trento Il gruppo Trento È bello me lo ricordavo Il gruppo della Giorgia Ok, ci abbiamo Antonellina Ci abbiamo Antonellina Eccola qua, poi abbiamo la nostra Martina 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 La Giorgia Giorgia Sponso l'ufficiale dell'altro gruppo Ok Lara Perla Perla Di saggezza, è vero? Il legno Ok, ci siamo tutti Abbiamo fatto l'appello Allora, ci sono dei momenti Non lo so Ricordate il video Ci sono dei momenti di vita Della Antonella Dove si blocca Si blocca E come si può Tipo Lo sento Quando vede un fantasma O qualcosa Voi la conoscete da più tempo Di me Giusto? Io da tanta stima Ah, l'avevo conoscete da stasera anche voi? Ecco perché siete sconvolte uguali a me No, io pensavo Ho detto Che fai sputino Ah, ti stavi C'è un momento Ok Quindi L'avete tirata su questa strada Si Ah, ti ha portato lei Ecco perché non parla più Su quel regolamento Ti sento Quanto? Ha smesso di parlare Da ora No No Viti, comini Comunque Ecco E' l'amica di tutti E' l'amica di tutti Facciamo così Va bene Perfetto Ci abbiamo anche un moscone che gira Giusto? E' l'unico sopravvissuto da quest'estate Ce l'abbiamo fatto Madonna E' inquietante Però va bene Lo stai Dove è andata? Dove è andata? Che si ha visto? Che cosa ha visto? D'arte stai giù che ci vediamo Facciamo un video Un video gioco a preghi Per i miei amici che ci guarderanno da casa Indovina che cosa ha visto Antonella Cioè Ed è a casa Ci manderanno Dei risponsi Qualcuno dirà Non so Un fantasma Un aereo In caduta Qualsiasi cosa L'aereo in caduta Non avete visto la faccia di Antonella Guardatevi il video anche voi Perché è incredibile Va bene Cantiamo che è meglio Così la nostra Marta ci fa le pose Martina Martina Ok Partiamo La canzone ci abbiamo messo tre quarti di ora a scegliere Giusto per la cronaca ufficiale Per i miei amici Per i miei amici Per i miei amici Va bene Partiamo Partiamo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.